Musica Raccogliere e riciclare tappi di sughero non solo per promuovere una sensibilità ecologica ma anche per uno scopo benefico. Il progetto etico è stato avviato nel 2012 nel territorio aretino grazie alla collaborazione di Strade del Vino Terre di Arezzo che è così diventata centro di raccolta di tappi per tutti i cittadini sensibili. Non è solo quello che è il nostro lavoro quindi produrre sughero per le bottiglie di vino ma anche riciclare, riciclare per un progetto meraviglioso, riciclare perché senso etico, oggi ricicliamo tappi per fare pannelli di isolamento e aiutare la Hollus e i ragazzi speciali. Inoltre grazie a un vero e proprio kit per la raccolta di tappi usati e di scarto anche alcune cantine e ristoranti hanno aderito all'iniziativa. Ad Arezzo sono stati così raccolti oltre mille chili di sughero. Immaginare mille chili di tappi sono una quantità spropositata ma lo chiediamo di farlo pian piano anche alla cittadinanza. Se la cittadinanza comincia a capire e a se sensibilizzata è un valore aggiunto. Oggi qui noi diamo anche un esempio di come questo progetto scende proprio a quelle che possano essere anche le associazioni di solidarietà interessate anche al ricupero di questi materiali. Adesso l'incaso del ricavato della vendita è stato devoluto all'associazione ragazzi speciali Hollus per contribuire così allo sviluppo del laboratorio La Conserveria nato per creare occupazione utile ai ragazzi diversamente abili consegnato all'associazione un assegno da 735 euro. I ragazzi speciali si occupano oramai da tanti anni per sensibilizzare sia i ragazzi delle scuole che le persone utilizzano dei buoni vini e quindi il tappo che non finisca nel cestino perché è utilissimo nella bioarchitettura e deve essere rimpiegato.